Grazie. Ora, la maggior parte dei contosofritti sono degli studi nel momento in cui sono state interrate tutti questi ambienti, questo è stato ritrovato a terra, restaurato e riposizionato. Entriamo ora in questo ambiente perché ci siamo lasciati il bianco e il punto del camorale, siamo a tre passi dalla sala in tavola e questa grande sala si è ripassata direttamente verso il parco. Ora, l'ambiente è molto interessante, marghe alle pareti, doveva avere a tutto amarsi, è una decorazione molto elegante, fondo bianco con rilievi di coperti d'oro, quindi sempre di lamina d'oro. Non abbiamo parlato finora dell'autore del progetto iconografico della Manusauria perché effettivamente è un po' come per l'architettura, in questo caso anche qui si avvale di un pittore. Il suo pittore preferito si chiamava Fabullo e fu appunto l'ideatore, chiamato l'equip di artisti, di tutta la decorazione dell'autore.